I dati della ricerca mediobanca indicano che comparativamente la borsa indonesiana nel corso dell'ultimo decennio ha guadagnato circa il 270 per cento quando la borsa italiana ha perso circa il 51 per cento. Sono dati oggettivi, sono dei dati che peraltro vanno manipolati con una certa cura. È evidente infatti che confrontare la borsa italiana rispetto alla borsa di un emerging market quale l'Indonesia può esporre a una contrapposizione tra due oggetti che non sono complessivamente equivalenti. Noi sappiamo innanzitutto che la borsa italiana è fortemente dominata da intermediari finanziari, banche e assicurazioni e sappiamo bene che a partire dal 2008 fino ad oggi il settore è stato fortemente penalizzato per una serie di circostanze che vanno dalle richieste dei regulator alla crisi di Lehman, alla crisi sovrana e questo ha determinato un'evidente zavorra della borsa italiana rispetto a quanto è accaduto nell'ambito dei paesi emergenti dove la rappresentanza delle financial institutions è molto più ridotta. La seconda considerazione è che bisogna andare un po' dietro ai numeri perché non è soltanto un problema di rendimento ma è anche un problema di liquidità e di volatilità. Se confrontiamo i dati della federazione internazionale delle borse valori e comprendiamo da una parte i paesi emergenti e dall'altra i paesi invece evoluti ci si accorge sostanzialmente che il livello di liquidità e il livello di turnover degli scambi è molto diverso. È ben vero che la capitalizzazione delle borse dei paesi emergenti nel corso degli ultimi dieci anni ha fatto passi da gigante, è altrettanto vero che però la capitalizzazione dei paesi emergenti è ancora molto più ridotta rispetto ai paesi non in via di sviluppo e dall'altra parte che i livelli di liquidità e di conseguenza il turnover quindi la possibilità di comprare e vendere con una certa rapidità è ancora molto ridotta nei paesi emergenti rispetto ai paesi sviluppati compresa l'Italia. Se guardiamo i dati della federazione internazionale delle borse valori siamo al 40% nei paesi emergenti rispetto al 54% dei paesi evoluti. Quindi effettivamente sì i paesi emergenti hanno rappresentato un nuovo attore nell'ambito dei mercati internazionali dei capitali dire che peraltro i paesi sviluppati in particolare all'Italia hanno realizzato una performance non così brillante richiede evidentemente una qualche cautela.